Due detenuti di origini baresi sono evasi dalla sezione 3 Europa del supercarcere di Trani. Secondo la primissima ricostruzione i due detenuti avrebbero scavalcato il muro di cinta lasciandosi poi cadere sotto il muro all'esterno che porta a via Andrea. Il tutto è accaduto nel pomeriggio di oggi. È partita l'immediata caccia all'uomo da parte di tutte le forze di polizia che stanno setacciando il territorio con l'ausilio della polizia penitenziaria. Primo a darne comunicazione il sindacato di polizia penitenziaria FS Cosp che parla di clamorosa e inaspettata evasione. A Trani un gesto del genere manca dagli anni 70 quando ad essere violato fu il carcere Vecchio Castello.